La città di Sulmona si appresta ad ospitare un evento eccezionale di scherma. La federazione nazionale ha segnato all'associazione Ginnasium Scherba Club la finale del campionato italiano a squadre Under-14 Grand Prix Kinder più Sport in programma il 2-3 marzo 2019. Si tratta dell'unica tappa italiana che porterà in città circa 1500 persone tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori. Al fine di agevolare le presenze che si avranno dalla giornata di venerdì 1 marzo la Ginnasium provvederà a stipulare convenzioni con le strutture dicettive locali. Sarà un grande evento che lo scorso anno a Lucca ha fatto registrare un centinaio di squadre provenienti da tutta Italia. Palcoscenico della finale nazionale sarà la sala d'armi di via Stazione Introracqua riconosciuta come unico centro federale per la scherma in Abruzzo. Proprio per questa peculiarità la Federazione Italiana ha segnato alla Ginnasium altri eventi prestigiosi. Dal mese di settembre a cadenza quindicinale sono previsti allenamenti collegiali con altre società che vedranno la presenza dai 70 agli 80 atleti più i tecnici. Il 13 e 14 ottobre si svolgerà la prima prova di qualificazione regionale e interregionale di spada maschile e femminile categorie assoluti alla presenza di 180 persone tra atleti e accompagnatori da novembre per cinque settimane e in programma il corso per aspiranti tecnici ed istruttori aperto ad allievi anche nelle regioni limitrofe. Il 29 dicembre spazio al trofeo dei parchi riservato agli Under-14 categorie sordienti e prime lame con 120 atleti. Dopo la finale del campionato italiano a squadre Under-14 del 2 e 3 marzo 2019, il 13 e 14 aprile 260 atleti si cimenteranno nella qualificazione regionale della Coppa Italia categorie assoluti. Il presidente federale Giorgio Scarzo, si legge in una nota della società, ha sottolineato che le organizzazioni delle attività affidateci sono il giusto riconoscimento all'impegno del gruppo direttivo, dei tecnici e di tutti i tesserati per il raggiungimento degli obiettivi promozionali e dei risultati di alto livello nazionale. La Ginnasium Scherma Club di Sulmona ha già provveduto a costituire un gruppo di soci per preparare al meglio tutta la stagione.